Paura ieri sera sulla corsia sud dell'autostrada 2 nei pressi dell'uscita di San Mango, Piemonte. Intorno alle 21 un camion che trasportava carne ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento all'interno della galleria Montevetrano. Il fumo ha invaso rapidamente la galleria rendendo l'aria irrespirabile. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco di Salerno che hanno provveduto a domare l'incendio. Grande paura fra gli automobilisti che in quel momento si trovavano a passare nei pressi della galleria e che per via dell'incendio sono rimasti bloccati per ore al freddo. L'ANAS ha chiuso la corsia in questione permettendo agli automobilisti bloccati di uscire dall'autostrada nel senso di marcia opposto. Per i presenti tanta paura ma nessuna conseguenza particolare.